E' un'altra parte di un'altra parte. Ehi, ehi, c'è nessuno, ehi, avanti amico, non si respira qua dentro, ok, oh che non sono morto, quindi, tu non sei uno di loro, ehi, vuoi aprire questa, oh, fammi indovinare, sei boomer, oh amico, grazie, tu sei l'amico di Kai, giusto? Amico di Kai, ma neanche per sogno, che ti è successo? Hai presente quei file che mi ha chiesto Kai? Mi hanno beccato a scaricarli, ti stavano mettendo in una pressa, sai tutta quella roba da criminale psicopatico, questi le fanno certe stronzate. Ma ce li hai, fai, vero? Certo, sono sul mio portatile, che è nella mia macchina, che è dall'altra parte di quel magazzino, che è pieno di guardie, cazzo! Per te il posto più sicuro è qua dentro. Cosa? No, 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 col cazzo che mo' sa, vengo anch'io. Tranquillo, tornerò, te lo prometto. Amico, non puoi entrare nel magazzino senza la mia tessera. Ehi! Grazie. Ehi! No, 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 bello! Ehi, amico! Fa la guardia mentre sono nel magazzino. Se arriva qualcuno te lo dico. Ehi, metti le mani dove le posso vedere! Ci siamo! Ehi, questa canzone ha rotto, amico! Davvero! Abbassala! Cazzo sarà una lunga ruota. Ma che cazzo? Ho sentito qualcosa. Non muoverti! Oggi cazzo. No, non muoverti! Ferma! Mani in action! Fermo lì. Che casino. Ehi, qui c'è un uomo a terra. Mani in alto, in alto. Ok, va bene. Bene, via libera. Allora prendiamo i portati e andiamo. Noi, qui c'è un po' Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tyson, prendo il pc del ragazzo. Ehi! Che cazzo è successo? Non ti preoccupare. Torno indietro. Vengono verso l'inizio. Uno, due. Sono sei, come minimo. Nel magazzino. Non credo che ce l'abbia fatta. Deve essere qui. Guardate dapperturo. Cazzo. Mole cazzo. Guardatevi intorno. Qui! Vedo meccato. Beccato! Colpitelo!